allora ragazzi in questo video voglio parlarvi di un dispositivo che vi ho portato qui su canale qualche settimana fa e il dispositivo che ho portato qui su canale qualche settimana fa è questo microfono lavalier a clip wireless voi direte perché ce ne stai parlando di nuovo se lo hai già portato su canale qualche settimana fa allora fatto sta che voglio raccontarvi un po come mai ho acquistato questo microfono e perché quindi al di là di tutte queste cose che voglio dirvi vi parlerò anche di un difetto che ho trovato in questo microfono che non vi ho detto nel video precedente anzi non è che non vi ho detto ma l'ho notato nuovamente dopo quindi ci vediamo subito dopo la sigla allora come mai ho acquistato questo microfono beh fatto sta che io sui social ogni volta che navigavo sia su facebook sia su instagram sia su tiktok questo microfono veniva sponsorizzato perennemente allorché io cosa ho fatto mi sono fatto un giro su amazon e ho detto ok prezzo abbordabile e oscillava tra i 25 e 30 euro ho detto perché non acquistarlo ho acquistato dopo qualche giorno mi è arrivato l'ho messo già a dura prova e già lì ho notato qualche difetto allora il difetto sta nella registrazione audio solamente ma non nella registrazione video audio dalla fotocamera del dispositivo allora io cosa ho fatto notato questo difetto allorché cosa ho fatto l'ho rispedito indietro mi sono fatto rimandare un'altra unità ho detto che allora questa qui sarà meglio senza che gli faccia le prove e già ho cominciato ad utilizzarlo per alcuni dei miei video veramente solo due video però mi sono accorto che dopo aver pubblicato quel video si presenta questo difetto ovvero l'audio in alcune parti si sente più alto in alcune parti si sente più basso non so perché magari la connessione wireless tra il ricevitore microfono non so perché ma si è notato questo problema allora la dura prova cosa ho fatto la prova che ho fatto la prima è quella lì di registrare dalla fotocamera nativa del mio smartphone ovvero l'applicazione stessa di xiaomi e lì mi sono accorto che non catturava l'audio allora cosa ho fatto ho scaricato open camera che da open camera vi dà la possibilità di andare a selezionare la fonte audio esterna se presente in questo caso questo microfono ho fatto le mie prove e dopo vi manderò una clip e devo dire che dall'applicazione open camera l'audio viene registrato abbastanza bene e senza nessun tipo di problema quindi ragazzi vi mando la clip ho registrato dal mio xiaomi e dall'applicazione open camera allora ragazzi eccomi qua questa è una clip registrata dal mio smartphone con cui l'audio viene registrato da questo microfono lavalier wireless però non sto utilizzando l'applicazione fotocamera nativa di xiaomi ma sto utilizzando open camera perché come vi ho detto durante questo video mi dà la possibilità di andare a selezionare la fonte di cattura audio in questo caso io ho selezionato microfono esterno perché in questo caso è presente e qui come potete notare come potete sentire per quanto riguarda l'audio non ho nessun tipo di problema quindi non ci stanno quei picchi audio attivo i picchi di audio bassi ma da qui viene registrato veramente molto molto bene quindi devo dire che per questo microfono se vogliamo voglugare o fare un servizio veloce beh riusciamo a farlo tranquillamente ma come vi ho detto all'inizio di questo video il problema lo si nota quando utilizziamo applicazioni per registrare solamente l'audio come faccio io solo durante i miei video quindi catturando solamente l'audio mi ritrovo con qualche problema se è con l'applicazione recforge 2 pro e sia con l'applicazione nativa del registratore vocale di xiaomi quindi ragazzi dopo questa clip mi metterò i due esempi audio come avete potuto sentire l'audio non presenta nessun problema questo qui è un altro che ho leggermente modificato pulito però non ci stanno quei picchi audio attivo picchi audio bassi ma il problema sta se registro l'audio separato da video vero solo l'audio e questo l'ho provato sia con recforge 2 pro l'applicazione che utilizzo perennemente per registrare l'audio dei miei video proprio come in questo momento ok solo che sto utilizzando il mio lavalier cablato per non avere nessun tipo di problema e poi ho registrato l'audio anche dall'applicazione registratore vocale di xiaomi quindi ragazzi ascoltate prima uno e poi l'altra partiamo da recforge 2 pro e magari nel momento in cui ci sa quel picco audio basso o alto vi metterò una nota in modo che voi possiate render bene conto di quello che succede con la registrazione su allora ragazzi io sto facendo una prova di registrazione audio perchè ho notato che negli ultimi due video il microfono questo qui che ho utilizzato lavalier wireless mi ha creato un po di problemi cioè non un po di problemi nel senso che praticamente in alcune parti del video ci stava il volume più alto e in alcune parti del video ci stava il volume più basso quindi adesso sto facendo questa prova di registrazione audio proprio per capire se ho nuovamente questo tipo di problema vediamo un po cosa che succede io provo comunque a fare questa prova ma anche di qualche minuto magari e vedrò se mi crea il problema allora ragazzi con questa prova di registrazione di questa clip audio sto provando un attimino a vedere come si sente il tutto perché ho notato che negli ultimi due video ho avuto qualche differenza audio nel senso che in alcune parti video ci stava il fatto che l'audio sembrava più alto e più acuto mentre invece in altre parti l'audio sembrava un po più schiarito e sporco quindi con questa prova audio non anche di un minuto sto cercando di capire un po se l'applicazione quella lì che utilizzo io che mi porta a questo difetto oppure vediamo con l'applicazione inattiva del registratore vocale di xiaomi mi porta a questo problema visto ragazzi avete ascoltato i due audio proprio dove vi ho messo la nota se mi avete mandato magari indietro o avanti video ve ne sarete resi conto stesso voi quindi io personalmente da da quell'ultimo video che ho pubblicato con quel microfono non lo utilizzerò più se non per bloggare con il mio smartphone direttamente con quel microfono si ok è un microfono fatto bene ha un bel design io di recente l'ho modificato a posto della solita clip gli ho messo dei magneti per avere per tenerlo più fermo possibile sulla maglietta però si comodo anche perché non abbiamo cavi ci sta la possibilità wireless però nella registrazione solamente audio purtroppo ci sta questo difetto ho provato anche tante altre applicazioni che mi registrano l'audio ho provato anche da altri smartphone ho provato addirittura da un iphone però il problema persiste quindi se registrano solamente l'audio ci stanno questi picchi d'audio che sono veramente molto molto fastidiosi quindi se voi avete anche voi questo microfono e avete riscontrato lo stesso problema fatemelo sapere qua in basso in descrizione oppure se nessuno di voi ha questo microfono e vuole acquistarlo per farne una prova qua in basso tranquillamente ci sta il link può acquistare il microfono fare tutte le sue prove e farmelo sapere nei commenti quindi qua in basso il link e andatevelo a comprare o magari se già lo avete fatemelo sapere vi ripeto la vostra qua in basso nei commenti ripeto il prezzo oscilla tra i 25 30 euro e devo dire che male non è solo che porta questo difetto e io al momento preferisco avere il microfono cablato che non mi dà nessun tipo di problema audio oltre a questo se questo video vi fosse piaciuto vi raccomando fatemelo sapere con un bel pollicione in su e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale quindi un supporto in più da parte vostra fa sempre bene dopo esservi iscritti attivate la solita campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita ma soprattutto condividete questi video ve lo ricorda anche l'animazione dopo la condivisione lo sapete vi trovate anche su instagram che c'è un amico snake le animazioni vi ricordano tutto e noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con un prossimo video ciao 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 ciao